Ho vinto, non mi sembra, magari ho vinto in qualche altro posto, ma in Pescara non ero mai stato, adesso ci sono, spero di vincere qualcosa anch'io, però il fatto che ho voluto aspettare il Pescara era perché mi piaceva e siccome avevo incontrato, ho detto prima il Presidente, ho visto che c'è un progetto, la voglia di riaprire un ciclo e magari che poi ci sono basi più solide, per avere una continuità nel futuro e quindi questo mi ha spinto a non accelerare altre proposte di lavoro che io avevo, quindi se era l'unica, se fosse stata l'unica magari uno dice c'ho questa, mi accontento, speriamo che va bene, però io potevo anche scegliere, se ho scelto Pescara è perché ci credo, credo nel Pescara. Credo che chi ho ancora visto volesse aggiungere qualcosa su questo argomento. Grazie Grazie